3.000 turbo con in aggiunta il motore elettrico, per un totale di 350 cavalli. Le prestazioni sono mozzafiato, abbiamo rilevato uno 0-100 da 5 secondi e mezzo. Molto buona l'erogazione dai 2.000 giri fino a oltre 7.000 giri. Settaggio sportivo delle sospensioni assorbe comunque bene le asperità dell'asfalto, dando un'ottima sensazione di compattezza del telaio. Un po' meno piacevole nelle giunzioni dei ponti autostradali. Veloce e reattiva nei cambi di direzione. In fondo è una buona sicurezza e l'SP è chiamato in causa solo nelle manovre più severe. Rispetto alla serie 3 normale è un po' più rigida, molto gradevole da guidare e non si avverte affatto il peso maggiore che è appunto per le batterie. Iscriviti al nostro canale